Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti su mio canale, io sono Maglus, ritorniamo sempre qui con Infamous Second Son ormai abbiamo acquisito una marea di poteri, però vi dico la verità, dobbiamo potenziarli un pochetto ecco perché prima di dedicarmi naturalmente alla missione principale che sta là su, con la bella di fronte ci dovremmo beccare qualche frammentino, perché siamo veramente... la sua missione dovrebbe stare da queste parti, atterraggio diciamo morbido, dovrebbe stare, forse credo che stia in alto vediamo un po' dai, ammazza e quanto in alto, si è in alto ragazzo, in alto vai, ok ci siamo hai ragione Reggio, sono in subbuglio ma nessuno spara hanno ordinato alla polizia di Seattle di allontanarsi dalla riva, forse c'è qualcosa che vogliono tenere segreto ah, penso che darò un ucciate hanno rinfoltito il gruppo di APC, ti conviene restare sui tetti tu ti preoccupi troppo e tuo fratello se non si preoccupa, tuo fratello chi si deve preoccupare? ok vai, gettati di qua Reggio, ti ho detto quanto è bella la vista da quassù pensa alla missione fratellino, il panorama può attendere e ma detto così sembra un po' offensivo allora, ma la cosa che voglio fare è questo lo buttiamo giù non è per niente vero, obiettivamente ci dà abbastanza fastidio cerro delicatamente e già ok, usiamo la fotocamera e dai wow, quindi è così che riduci le tue beh, è meglio non guardare troppo da vicino è l'unico modo per salvarmi eh, è diventato offensivo però, eh ok, chi è sentito del... aspetta, aspetta ok, vai perfetto no, ti sbagli ragazzo, non sono io dove state? aspetta oh, oh, ah, sei caduto, ma ti sei fatto male aspetta sì sento qualcosa che senti? ah, qua, aspetta un casco del DOP? funziona ancora? sì poco no, non sento ma funziona il conduit di cui parlano stanno dicendo che è Hank ma non avevi detto che era morto a Solomon Bay? credevo che l'avesse ucciso, anzi l'ho vista mentre lo uccideva è morto ne sono sicuro continuo a cercare eh, vabbè cerchiamo, cerchiamo eh, va bene, ok non ci sono problemi ah, che palla e chi è questa? qua dovremmo ispezionare, penso da qua dietro, vai ok, ci sono ok, Reggie, devo ammetterlo mi sbagliava che c'è qua? aspetta, che non ho capito ma dove devo fare? qua? qua? ok tienila pure è il mio regalo di Natale per l'anno prossimo ehi, Delfin potresti almeno invitare un'amica quando te la spassi a downtown ehm, non sono io qualcuno manda in fumo gli elicotteri del Dufi me la godo ehi, li vedi? e dove sei? me la godo un palazzo minimo alla dodicesima iata che facciamo? esempio esempio casuale allora ragazzi facciamo una bella cosa guarda così iniziamo un poco a fare di macello speriamo di non ammazzare però anche chi dovremmo salvare ok credo che li ammazziamo aspetta me salvi sì vabbè io volevo salvare i ragazzi da dentro però penso di aver combinato un macello proprio che è successo? sei stato promosso a paladino sei più vicino a diventare un eroe ok vabbè abbiamo sei frammenti io direi visto che il neon non è che ci piace tanto cioè però io non riesco a dosarlo bene abbiamo video che mi fa impazzire invisibilità potenziata e questa mi piace un casino e quindi mi sa che mi becco questa vai andiamo subito da Hank aspetta là ci sta ecco adesso non ci ha beccato non riesce a beccare sta antenno nella qualsiasi ok bravissimo ragazzi allora possiamo avanzare abbiamo beccato alcuni frammentini niente male qua ci dovrebbe essere una una telecamera a noi non ci interessa ok ciao ragazzi ciao ciao grazie 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 allora vediamo un po' se riusciamo si basta con gli applausi lo so che siete miei fans però basta ok mi serve un tubolare assorbi video assorbi video vai ok perché con il video non abbiamo problemi ok aspetta ho sbattuto la testa vai vai di qua aspetta aspetta grande così vi voglio tutti con me tutti con me vai ok ci sono eh assorbo video ciao 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 che ti porta di questo tipo non hai già il fumo si tratta di un uomo che era con te su quel trasporto quello da cui ho assorbito i poteri del fumo vuoi dire quel ciccione sudato di Hank se è fuggito dall'attore di Augustine forse può aiutarmi a capire come entrare perché non viene anche tu ad aiutarmi no no quel tipo porta Roni io rimango qui a guardare i fuochi d'artificio Delsin senti tieni gli occhi aperti non mi fido di quel giurro pelato chiaro ma non mi sento indifeso ok e poi abbiamo qualcosa in comune entrambi odiamo Augustine già buona fortuna ok grazie buona fortuna oh che è successo all'improvviso ho visto un po' di scenario ok vabbè la missione sta là la vedo un po' di che vedo un po' di cose come si chiama non mi viene il termine come si chiamano quella via sorveglianza è su un tetto del centro e cerca di respingere gli elicotteri ascoltami bene devi impedire che i tupi lo prendano si si chiaro e non lasciare che lo uccidano e non ucciderlo neanche tu ma non farlo scappare ehi aspetta che prendo bello l'ho beccato dai ok schizziamo all'altra parte vai tac 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 non va bene così non va bene così ah già perché non abbiamo il doppio salto qua vai 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 non ti preoccupare ok schizzo di qua allora credo che dobbiamo stare un pochettino attenti agli elicotteri stiamo arrivando ragazzo stiamo arrivando speriamo che sia alla nostra parte io non credo questo ci ammazza vai va sul tetto regge lui no hai perso no non l'ho perso mi sto solo tenendo a distanza di proposito ma no veramente no anche tu e in tre lingue diverse è difficile riuscire a sparare in volo zona pericolosa e capirà oh attenzione che c'è un'elicottero oh siamo arrivati oh attenzione si è fregato il cellulare si è fregato il cellulare vergogna vai giù proprio come un pirillo Hank come hai avuto questo numero sei sull'elenco scusa per il gancio a bruciapelo ma mi sembravi un tantino troppo agitata per imbastire una discussione ti sei calmato? te lo giuro amico quando ti metto le mani addosso ti ringraziamo io tra una mezz'ora no 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 fermo lì sono calmo sicuro? perché finora non hai fatto altro che inseguirmi e urlare e sbraitarmi contro io devo fermare Augustine ma per farlo mi serve il tuo aiuto con me sfondi una porta aperta bene potremo aspetta quelli del T.O.P. sono qui in giro sta succedendo qualcosa controllo il ti richiamo oh un'altra volta missione completata ottimo pensamenti disponibili ma frammenti sempre zero reggi sono io Delsin grazie a Dio eri scomparso si scusa ho parlato con Hank vuole aiutarci a mettere le mani su Augustine cosa? non credo che sia un abonente lo sai fratellone tu ti preoccupi troppo forse tu non ti preoccupi abbastanza stai attento e occhi aperti ti preoccupi troppo? non abbastanza non ti preoccupare stai tranquillo ok qua c'è una fantastica telecamera qua sotto come parlo ok prima di dirigerci verso la missione che sta praticamente là ho preso un po' di frammenti ben undici giusto per potenziarci un pochetto e quindi ci andiamo a potenziare sicuramente il video lame a sanguinare questa ce la potenziamo sicuramente poi abbiamo incremento di segnale no slancio video doppio questo mi interessa tanto perché spesso quando vogliamo abbiamo problemi per quando dobbiamo schizzare flusso video tieni premuto per liberare ok flusso di energia questo pure mi piace ok l'abbiamo veramente consumati già tutti però il video lo stiamo super potenziando vai e andiamo adesso possiamo schizzare due volte e ci facciamo anche quest'altra missione la missione è bloccata per entrare la missione il bisogno di suggerimento di comando mobile di 2p delle vicinanze ah ok quindi c'è un centro di 2p delle vicinanze ok e cosa è stata ragazzi ok allora iniziamo subito a far fuori questo vai ma neanche io lo vedo aspetta vieni qua vieni non diciamo parolacce aspetta qualcun altro che si vuole far ammazzare eccolo va vai assorbiamo il fuori che forse è meglio confetto oh 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 aspetta che qua c'è uno che si vuole fare sottomettere bravo ragazzo arrenditi anche io vai ok può stare di qua e anche velocemente vai attenzione attenzione di qua di qua di qua mettiamoci da questa parte ragazzi fate bravi eh che sono a curto non è contatto non è contatto vai ok aia aia sei stato fortunato ragazze stavamo ammazzando invece oh ciao basta basta calma ce ne dovrebbe stare ancora un altro che sta lanciando pietre a gopura eccolo qua perfetto manco mure questo ok questo è morto vai ci sta uno che sta sparando e non si arrende dove stai? ah forse ti sei già arresto bravo mettiti da parte adesso noi rompiamo questo ci andiamo a fare anche l'altra missione again vai no non ci sono vai di qua vai e andiamo rompi 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 e rompi ah ok pensavo quasi che non si saltasse più niente in aria invece no niente ok becchiamoci frammenti vabbè non fa niente quindi possiamo a questo punto fare anche la missione oh ammazza quanti frammenti vai grande ari grande sempre grande e dovrebbe essere l'ultimo qua ok l'ultimo che sta qua e vai ok a questo punto penso che la missione ce la possiamo fare anche se naturalmente abbiamo anche i potenziamenti vai assorbi un attimo il video quanti frammenti ci abbiamo quattro ok quindi facciamo così nei frammenti neon no io potenziare anche un po' il fumo abbiamo assorbi il fumo no non mi interessa colpo la testa nemmeno questa non la possiamo fare ancora no va bene non fa niente ho quasi sblocchato parecchio bomba questo è un po' il fumo molto è un fumo corrosivo allora a questo punto facciamo plus video che cos'è questo è assorbi video assorbimento rapido è certo è quello che mi interessa e poi facciamo anche incremento di segnale premi durante uno slancio video per spiccare in alto verso l'alto e si ok vai da quest'altra parte ok perfetto possiamo quindi da questo punto continuare oh sta la missione sta qua la missione che assoluto vai dovrebbe stare eccola qua eccola qua vai certo ci siamo ragazzo ci siamo vai stavo pensando ragazzo quando mi hai inseguito su quei palazzi con gli elicotteri e tutto il resto si eh senti mi spiace per quello no dicevo è lampante che sai il fatto tuo con i poteri di fumo che ti ho passato si beh ho bisogno anche di un'altra cosa sei riuscito a fuggire dalla sua torre come hai superato quelle barriere elettrificate c'è un trasformatore su un tetto dalla parte opposta devi disattivarlo ma non sarà una passeggiata ha fatto blindare qualcosa e ci ha messo di guardia mezzo di Ubi beh ma forse se collaboriamo ehi la mia specialità è evadere da quei posti non ficcarmici dentro abbiamo tutti un buon motivo per cercare Augustin ha rubato qualcosa a entrambi ma dobbiamo agire secondo le nostre regole non le sue attiriamola fuori da quella fortezza solo così avremo una possibilità vabbè se lo dici tu conosci i due ragazzi che erano con me sul trasporto blindato? no credo comunque il DOP li ha presi cosa? notizia fresca ecco cos'era il casino lì prima avrà deciso di ammanettarli per compensare la mia fuga li ha fatti portare sulla grossa piattaforma di cemento che il DOP ha costruito fra le due isole dobbiamo aiutarli ok c'è un molo di fronte a quella piattaforma troviamoci lì dopo il tramonto ci vediamo lì ok quindi ci abbiamo un appuntamento con Hank eh ce l'ha giù eh manco io mi fido sì reggi ma che ci fai qui? senti quelle sono persone e hanno bisogno non bioterroristi o conduit persone ok grazie grazie di essere qui io che ci fa qui lo spirro? oh ma che male così il fratello Kay è venuto per me e cosa hai in mente? ho dato un'occhiata il punto migliore è il molo sul retro da meno nell'occhio voi potreste sfruttare il vostro dono del fumo e attirarli sul davanti io entro con la barca durante il diversivo perché vai prima tu? perché sono un poliziotto e se mi procura una barca è legale se ne rubi una tu ti sbatto col culo al fresco oh fai sul serio fidati ci vediamo dentro allora giusto? sì ci vediamo dentro occhi aperti ok? oh ma com'è spavaldo ascolta se andiamo lì e iniziamo a fare casino Augustin verrà ricorsa andiamo so come arrivare all'isola senza essere visto cos'è successo? ho visto Augustin ucciderti tu hai visto che mi catturava tutto questo c'è una bella differenza vabbè quindi abbiamo un mezzo appuntamento con Hank praticamente quindi lo dovremo seguire e chissà come andrei a finire porca paletta allora metto questo video come sapete un mi piace super commento un bel mi piace fatemi sapere la vostra dito questo come sapete come sapete se non mi piace se non mi piace ci vediamo in questo video e bye bye